Ambrosini, intanto com'è mai questa scelta di un convegno per ragionare sui rapporti Italia-Russia? Questo è un convegno bilaterale che è stato indetto dalla sezione provinciale della Lega Nord di Imperia in collaborazione con la sezione cittadina, con la partecipazione del nostro capogruppo in regione Alessandro Piana, con il Presidente del Consiglio Francesco Bruzzone e con soprattutto, non è una secondaria importanza, la presenza di Edoardo Rixi in quanto assessore dell'attività sviluppo e produttive per iniziare un percorso socio-economico, turistico e culturale con la Federazione Russa, in quanto riteniamo come proprio linea politica della Lega Nord federale che l'embargo che è stato fatto alla Russia sia stato un errore grave sia per la Russia e soprattutto per i nostri produttori di aziende manifattoriere e di aziende agricole. Tra l'altro ci sarà presente anche il Consolo Generale di Russia a Genova? Saranno presenti due Consoli Generali della Federazione Russa, sarà presente anche il padre spirituale, il Pope della Chiesa Ortodossa Russa di Sanremo, con naturalmente ci sarà molto probabilmente la presenza del Perfetto, forse quella del Questore, del Coronello dei Carabinieri. Quando si muovono queste persone, si muove tutta una serie di persone addette ai lavori, più ci sarà il Presidente dell'Unione Industriale, il Presidente della Confcommercio, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente della Confesercenti, il Confartigianato e molto probabilmente saranno presenti anche il Vescovo di Albenga e quello di Ventimiglia. L'appuntamento è giovedì alle 10.30 nella Sala Multimediale della Camera di Commercio a Imperia, un momento di riflessione politico sì, ma soprattutto economico, mi pare di capire. Sì, è un momento di riflessione politico, ma soprattutto economico, perché questo embargo costa le nostre aziende, che siano di questo territorio, che siano di territori tipo quello dell'Emilia-Romagna, che non è una regione che noi governiamo, costano miliardi di euro all'anno, miliardi di euro sono migliaia e migliaia di posti di lavoro, oltre che di ricchezza perduta.